nasce il nuovo Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport. Via con la sigla. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo della nascita, della presentazione a sorpresa, della nuova linea di Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport, che sostituisce la recentissima, presentata nel 2020, Tonda GT. Allora qui c'è da fare tutto un discorso complicato, perché voi sapete che Parmigiani Fleurier ha ottenuto un enorme successo improvviso e imprevisto da molti quando Guido Terreni, già CEO di Bulgari e responsabile di tutta la vicenda Octo Finissimo, è andato alla guida di Parmigiani Fleurier che ne aveva un disperato bisogno, perché Parmigiani Fleurier è una casa di altissima orologeria che ha sempre fatto tra i migliori orologi del mondo, attualmente in vendita, ma c'era un problema, che non si vendevano. Molti dicevano che era un problema di estetica e deve essere vero, e deve essere vero. Sta di fatto che Parmigiani Fleurier e Michel Parmigiani in particolare, l'orologiaglio che l'ha fondata grazie ai capitali della famiglia Sandoz, cioè gli eredi di quelli dei farmaci, praticamente vive dagli anni 90 con i denari della famiglia Sandoz, ma è sempre in perdita. Infatti si stavano un po' infittendo le voci che volevano la famiglia Sandoz disimpegnarsi da Parmigiani Fleurier, che poi Parmigiani Fleurier è il marchio di orologi, ma poi dietro c'è tanta altra roba, perché c'è un vero gruppo integrato verticalmente con la voce manifattura, Val Fleurier, che produce calibri più economici per conto terzi e anche assembla qualche Parmigiani più economici, di solo tempo, e poi abbiamo l'atto calpa, per esempio, che è quella che fa le spirali e i bilancieri di altissimo livello. Quindi è uno dei migliori, infatti mi risulta qualcuno mi ha detto che fornisce anche Patek Philippe, ma comunque al di là di questo sicuramente fornisce OISA fra le altre cose per i suoi calibri. E allora c'era questa situazione e arriva Guido Terreni che subito impone a Michel Parmigiani, immagino che ci saranno state delle discussioni, perché Michel oltre che progettare i calibri, ed è estremamente bravo in questo, è anche un grandissimo orologiario, ma imponeva anche il suo design. E invece Guido Terreni gli ha imposto una correzione di rotta, gli ha detto, qui bisogna, partendo dalla collezione base, la tonda, bisogna rimodellare l'estetica. Però la cosa bella che è riuscito ad ottenere Guido Terreni con la linea PF, tonda PF, che si distingue, ha sostituito la tonda già anni fa, e ha ottenuto un successo enorme che la tonda non aveva mai ottenuto, e che non è che abbiano rinnegato i tratti distintivi della linea tonda o della linea di parmigiani, li ha modificati in una maniera addirittura da accentuarli, ma in questo modo gli orologi hanno più personalità, sono più eleganti, piacciono e vendono. E allora cosa è successo? È successo che mentre la linea tonda PF ha grande successo, non solo il solo tempo, ora anche proposta a 36 mm, ma anche le versioni a 40 mm, anzi 41 mm, o 40 mm, non mi ricordo più, col micro rotore, e c'è anche la cassa in acciaio con la lunetta in platino, oltre alle versioni in oro, più classiche. Nel frattempo, nel 2020, è uscita una linea più sportiva del tonda chiamato tonda GT, che era già uscita sotto la guida di Guido Terreni, ma non era stata fatta da lui, quindi praticamente la tonda GT, pur appartenendo alla linea tonda, in realtà rispetto ai tonda PF non ne condivideva alcuni elementi di base del design che ne hanno fatto il successo. Quindi Guido Terreni ha imposto, immagino con discussioni e con problemi, a Parmigiani Fleurier di sostituire il tonda GT nato solo nel 2020 col tonda Graph GT, il tonda Chronograph GT e il solo tempo GT con una linea chiamata tonda PF Sport che riprende i tratti del tonda PF e quindi ristabilisce un'omogeneità assoluta di design fra i diversi tonda. Una scelta non facile, una scelta non economica e una scelta anche discutibile, perché immagino che i clienti della linea tonda GT non saranno contentissimi di queste sostituzioni. Ma intanto vediamo la gamma attuale del tonda GT che va fuori produzione. Vediamola subito. Ci sono delle cose interessanti che non avevo abbastanza valutato. Ecco alcuni esemplari del vecchio tonda Chronograph GT. Questo è la versione top con cassi in oro rosa e con calibro, cronografo, calendario annuale, calibro a 5 Hz, mentre la versione in acciaio che state vedendo ha il calibro a 4 Hz. Quello a 5 Hz si chiama 0,71, quello a 4 Hz si chiama 0,43. Ma è sempre cronografo con calendario annuale. Qui già vediamo i tratti della vecchia linea tonda GT. Cioè abbiamo una cassa ovviamente tonda, abbiamo soprattutto la lunetta con i 265 incisioni zigrinata presa dal toric. Le anse non sono a lacrima come quella del tonda PF. La decorazione del quadrante non è il Grand Dodge del tonda PF e c'è anche la grandata. Anche le versioni solo tempo avevano la grandata comunque e avevano il calibro PF 0,44. Come abbiamo detto tutto questo non andava bene a Guido Terreni, il nuovo CEO di Parmigiano Inflerie, ritenendo che una linea di successo come il tonda PF dovesse avere tratti estetici uniformi su tutta la gamma e quindi basta tonda GT sostituito con il tonda PF Sport e c'è molta più vicinanza col tonda PF normale. Infatti il tonda PF Sport posso già dire che prima di tutto ha una lunetta zigrinata ma è meno zigrinata, cioè sono 160 incisioni invece delle 2,60. Questo gli dà un carattere un po' più sportivo, un po' più massiccio. Poi abbiamo le anse che sono adesso quelle del tonda PF, quindi anse a goccia. Sparisce la grandata su tutti i modelli. il guilloché è a clou triangulaire, mentre lo ricordo che è a grand d'orge, cioè grano d'orzo, sul tonda PF, mentre sul tonda PF Sport è a clou triangulaire. sparisce la grandata e abbiamo appunto il nuovo calibro conografico e abbiamo soprattutto sempre in termini estetici abbiamo il logo PF a mezzogiorno e anche per questo che sparisce la grandata e hanno un'estetica più vicina al tonda PF per le ragioni che ho detto ma anche più raffinata, più pulita, più bella. Io non ho dubbi, le nuove versioni sono più belle. Andiamo adesso a vederle e a descriverle perché hanno presentato sia il cronografo sia un trasfere. Andiamo a descriverle anche nelle loro caratteristiche tecniche che sono, come dicevo, un po' particolari che poi riprendono calibri della precedente collezione. Partiamo dal cronografo disponibile in acciaio e in oro rosa. Come già vedete lo stile è piuttosto diverso e molto più minimalista e allo stesso tempo più sportivo. Cosa dobbiamo dire? La cosa più importante è che il diametro è rimasto 42 mm ma lo spessore è calato da 14,3 del tonda GT cronograf ai 12,9 che sono sempre di più dei 12,4 del microrotor. ma cioè è veramente tanta tanta roba. Guardate l'eleganza di questa versione che tutti adesso hanno il calibro ad alta frequenza quindi non c'è più la distinzione che c'era fra il modello in oro rosa e gli altri come era sul tonda GT. Adesso hanno tutti il calibro ad alta frequenza naturalmente è sparito il calendario annuale c'è ora la data la gran data è sparita c'è ora la piccola data fra le ore 4 e le ore 5 le altre modifiche alla cassa la finitura la lunetta eccetera le ho già menzionate prima sono 21.900 euro la versione in acciaio del cronografo direi decisamente buona e 51.000 no 29.500 chiedo scusa il cronografo in acciaio e 51.500 il cronografo in oro rosa di listino è certificato COSC dimenticavo di dirlo il calibro si chiama PF 070 dimenticavo di dirvi che nel quadrante un'altra modifica sono le sfere a delta con una parte open open aperta per far vedere i subcontatori e un'altra parte con superluminova nero caratteristica interessante ora passiamo alla versione solo tempo profondamente modificata anch'essa con le stesse modifiche di cassa lunetta quadrante del cronografo ma con altre modifiche aggiuntive interessanti ed ecco il nuovo trasfero ancora più migliorato rispetto al cronografo perché qui abbiamo l'eliminazione della grandatta al 12 e abbiamo l'assenza dei piccoli secondi al 6 che non stavano benissimo anche se io li amo molto di più dei secondi centrali con i secondi centrali e poi abbiamo tutte le altre modifiche la data è stata piccola ed è stata spostata al 6 per il resto abbiamo il quadrante con gli indici più corti luminova nero e il calibro è quello del 36 millimetri pf770 9,8 millimetri di spessore e il diametro è passato da 42 millimetri a 41 millimetri per 1.700 euro il prezzo della versione in acciaio 39 mila quasi euro il prezzo della versione in oro rosa beh allora in sintesi concludendo cosa devo dire beh devo dire che sono d'accordo sul piano estetico con Guido Terreni forse avrei lasciato i piccoli secondi al 6 sul tonda pf sport trasfere ma avrei tolto anch'io la grandata per mettere il nuovo logo pf a mezzogiorno ma al di là di questo mi sembrano molto migliorati esteticamente ottima anche la generalizzazione del cronografo ad alta frequenza anche sulle versioni acciaio mi lascia un pelo più perplesso il fatto che non ci sia più una versione con abbinate il calendario annuale oltre al cronografo ma può darsi sia una questione di tempo e uscirà se riterranno i vertici di parmigiani e frere che ci possa essere domanda per questo tipo di soluzione però direi che hanno lavorato bene e i prezzi si sono alti ma soprattutto per il cronografo e anche per la versione acciaio del trasfere considerato il livello di finiture non ci si può lamentare troppo perché ripeto il livello di finiture è veramente molto alto in ogni piano le sfere sono sempre d'oro anche sui modelli acciaio mentre gli indici applicati sono in acciaio o in oro a seconda delle diverse casse mi sembra di avervi detto più o meno tutto vi ringrazio vi saluto mettete like iscrivetevi al prossimo video ciao